Bella raga, ciao a tutti del Comendore, iniziamo a tenere un stop spin, anche perché poi ci sarà il time break che voglio provarlo insieme a voi. E' un po' che non giochiamo, qui abbiamo la TP1000 del Rolex Paris Master, vediamo cosa comodiamo, siamo un po' stanchini. Ecco, il tabellone, è bello cicciotto. Vediamo, chiaramente se vinciamo bene questo poi magari salto fin dove arrivo, insomma se in finale giochiamo alla finale, ma voglio capire come si è ammessi. Qui veramente da un po' che non so, mamma mia. Brutto. Siamo ottavi del mondo, siamo alla quarta season. E che palle, non ne becco uno. E vabbè che non sembra male però, adesso che è uscita la versione, diciamo, definitiva. E che palle. Ce l'ha not chance. Dai come? No, mi ha preso il controtempo. Guarda che roba, cazzo come gioca oh. Calma. Ho bisogno dei servizi, devo riprendere la mano con i servizi. Sì. Bellissimo. Sublime come, sublime. Brutto. No, che doppio fallo orrendo. E regalite di sto cazzo. Ancora. Tanti errori. Del talentissimo. Buono. Advantage. Cue. Bello. Boom. 1-0. Dai dai che stiamo prendendo la mano di nuovo. Che non può che non giochiamo, ragazzi. Le Olimpiadi ci hanno tolto tantissimo. E se sali così però, rischi. Troppo campo. Saluti. 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 Del talentissimo Venezia. Gol. No. Sì. Gollazzo come indietro, signore. Eh, sto tenendo dei missili adesso. Però il giocatore è forte adesso. Serviamo per il match. Eh, fall. Eh, nei primi turni. Siamo forti. Beh, peccato la bella. Delizioso. Sublime. Ma cosa gli ho messo? Ciao. Eh, che dommarombari. Bello, se seconda. È un come delizioso, quello di Pari. Eh, qua ha rischiato, però. Perché lui mi regala. Lo sta regalando, sto punto me l'ha regalato. Match point come... Bello. Bello. Buono. Ci vediamo per la finale, per dove arrivo. Ragazzi, siamo in finale d'Erbone con Sinner. Prima partita che giocavamo contro Sinner, perché da quando è riuscito Sinner non ho più giocato, se non erro. Guarda che figo, guardateli. Due italiani in ascesa. Sinner vs. Q-Man. Vai. Sì, però forse devo aumentare il livello, perché volevo aumentarlo quando arrivo a giocare i tornei del grande Slam. Che così quelli me li sudo di più. Ok, sono veramente forte adesso, eh. Vinco senza troppi problemi. Ci mettiamo il livello massimo, solo che dopo sarà dura, però... 40, 0. Bravo. Però che senso ha che non posso fare tornele grave Slam e che devo fare gli obiettivi? Proprio la carriera di questo gioco è fatta un po' da culo. Secondo me. Questo è il mio modesto parere. Slam e un gioco a zero. Premier set. Slam e un gioco a zero. Slam e un gioco a zero. Slam e un gioco a zero. Eh, qua stiamo iperdominando, però, eh. Non va bene. Da quando mi è andata sulla abilità del giocatore... Adesso, per carità, 15 pari. Sinner. Missile terra aria, boom boom. Easy girl. Delizioso, delizioso. Buono. Non ce n'è, non ce n'è, ragazzi. Breccata della vita. Breccata della vita. Boom boom. Sublime. Non c'è niente da fare. Dominiamo. Serviamo per il match. Ci seleziamo il livello, però. Però volevo farlo, ripeto. Appena sblocco... ...i tornei da grande Slam. E purtroppo ne manca ancora un po'. Sto stancando tanto. Eh, grande miracolo. Sinner me la regala, però. bello, bello. Bello, bello. Onestamente bello. Boom. Pino di quelle mine ormai, raga. No, steccata brutta. Steccata brutta. Di poco. Bello. Quando faccio questo servizio, e questo dritto va sempre bene di solito, speriamo. Se ne sta dando veramente tutto. Non una grande smorzata. Questa è molto sublime, sublime. Ci hanno aperto il campo. Ma se ne ritiene. Ma faccio una cosa senza senso. Mi apro il campo. Ed è gol! Signori che come. Sì, ne sta dando tutto adesso. Eh, ma il come. È su Shirling. Championship point. E me lo faccio con l'Ace. Guardatelo! Ciao Sinner. Bye bye. Ci bisogna alzare il livello, comunque. Shirling. Shirling. Alzala, come, alzala. Vediamo la coppa. Grazie. E si gode. Allora ragazzi, devo vincere ancora. Un Master 500, due Master 1000. Poi sblocco il grande slam. A sto punto me li faccio, che è così. Dopo possiamo aumentare il livello massimo. E ci giochiamo alla grande. I grandi slam. Abbiamo il 500 l'è qua. Andiamo. Vediamocelo tutto. Tanto vi stravinciamo. Così ci riprendiamo in maniera soft. Con top spin. Vai. Qui ci divertiamo un po'. E dopo c'è il livello massimo. Sarà la cazze, eh. Perché... Prevedo cose turche. Però a me non ci gustiamo. Se chiaramente ci facciamo anche i 1000, così per i 1000 dovremmo avere un po' meno problemi. Spero. Quanto gli avversari siano gli stessi, ma... Oh. Stai perdendo la bomba. Oh, yes. Govado. Che glim. Oh, che... Che brutto inizio. Dai, facciamo un top 500. Per piacere. Buon. No. Fuck off. Fuck off. Buono. Dai, dai. Per me tiriamo delle secche. Questo non servizio un po' del cacchio, però. Buono. Benissimo. No. Dai, non devo perderle ora in sto torneo. Lo devo fare. Ok, siamo sesti nel ranking. Govado. To love, to love. Chublim. Cosa fa? Eh, speravo. Ecco, brutto errore. Lo merito. Sto giocando malissimo sul top 500. It's incredible. It's incredible. Sono quelle cose che mi stanno abbastanza sui marroni. Beh. Guarda come gioca sto qua. Ragazzi, c'è... Sto soffrendo, eh. Sono preso un po' sotto gambe. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda. Un cuo' è veramente ridicolo. No. Non riesco. Ancora va. Un primo torno alquanto fastidioso. Grazie. Hola. Dai, breccata della vita. La breccata della vita. Wow. Goto. Game, set, and match. To love. Tutto. Bel servizio. Andiamo a chiudere. Grazie. Grazie. Il nuovo fenomeno del tennis mondiale. Il nuovo fenomeno del tennis mondiale. Però non capisco. Sto... 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 Sto giocando così male. Un top 500. Non capisco. Un po' la carriera di tiebreak sembra più bella, eh. Mancano a livello ufficiale tornele grande slam, per tutti gli altri ci sono i C250, i C500, i 1000. Hanno un roster incredibile rispetto a questo. La giocabilità forse sarà più bella, però, questa. Comunque lo proviamo insieme. Delizioso. Eh, qual talentissimo ci dimostra che il tennis è ispirazione. Eh, fioi. Ma male, doppio break point. Mi vergogno. Eh, oggi il come non è in giornata. C'è il top 500. Niente, vabbè. Mamma mia. Addirittura perdo un games. Vabbè. Ridicolo il come. Ridicolo. Proprio come Staglio. Staglio e Oreo. Peso completamente sotto gamba questa partita. Questo mi risponde a tutte, ma mi risponde. Ma basta. Ah, io ho appena avuto Siena a Parigi. Dopo le TP-Finance non posso farle, perché. Dai, andiamo a chiuderla per cortesia. Eh, andiamo a chiuderla per ma... Sibli. Ehi. Oh. Sibli. Sibli. Come. Sibli. sarà nel ranking miliardesimo e anche questa sala e ciao buono ho vinto ma a fatica vai semifinale a Delray Beach USA guarda c'ho un bel uomo sono contro un bel uomo ragazzi il cume soffre gli uomini belli di solito però tosse un bel cappello dai 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 come è incazzato dopo un quarto di finale fastidiosissimo adesso sembra invece che siamo tornati a sfornare madonna ragazzi troppo i capelli belli forse è questo che mi sta fregando che lo sta fregando sublim sublim dai dai ma vai come domani questo mi dà la possibilità voglio giocare ai colpi che amo ciao no e si questo oppo non è in capo sta pensando alla patata secondo me ma la cosa sto mettendo buono 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 ok non era brutto ma lento è che vogliamo in finale che ma no la sto tirando degli ace da ma qua riesco a fare ace non ho capito perché mi ha aperto il campo benissimo però la sbaglio no vabbè senza un senso logic e vogliamo in finale ciao ok final match contro Azynguo vai non ti riesco a fare gli ace qua però andiamo di sera nella romantica notte questo è un po' i maroni più brutto mamma ace da qua è una sentenza adesso ciao dai e la salva anche questo lo tiro male io e qua fa il capolavoro mi apro il campo e dovrei chiuderla perfetto e finalmente esce anche di là boom dai dai che una formalità è un bellissimo bello ma gran colpo dai 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 molto bene molto bene perfetto doppio doppio break molto good molto good il servizio è tornato mamma mia ragazzi eccolo qua questa è la classica giocata comandiana e andiamo in testo atp500 molto bene perfetto mi aumento anche i livelli godo raga saluto il comandone veneziano nel ranking o ranking lasciamo la scelta siamo sempre sesti spero nel prossimo video già di sbloccare di tornare a grande slam ciao